Ormai tutta Europa è ricominciato l'anno scolastico, in Italia mi pare che in tutte le regioni si ricominci ormai ad andare a scuola a pieno regime, quindi auguri a tutti i ragazzi e ai bambini che ricominciano la scuola, ma c'è un fatto di cui volevo parlare e di cui abbiamo parlato spesso in queste pillole, ed è l'inverno demografico. E che cosa c'entra con la scuola? Che quest'anno nelle scuole italiane ci sono 150.000 iscritti in meno, un calo del 2% in un anno, 2% di alunni nelle scuole italiane in meno e in 10 anni un 10% in meno. Dal 2012 al 2022 abbiamo perso il 10 punti percentuali di alunni, di studenti e di conseguenza abbiamo perso futuri lavoratori, perché in fondo di questo si tratta, il calo di mano d'opera, di disponibilità, di menti anche, di menti, di menti intelligenti, di geni. Se ci sono meno persone, se nascono meno bambini, ci saranno anche meno persone, meno ricercatori, meno persone in grado di fare nuove invenzioni, persone in grado di trovare nuovi sistemi per migliorare, per esempio, il nostro consumo energetico, per trovare dei modi di consumare meno energia o di produrre più energia anche. Vabbè, questo per renderci conto, in fondo, che siamo davvero nel pieno dell'inverno demografico e che è urgente che anche chi vincerà le elezioni, c'è stata una bella diretta con Angela Bellicciari sulle elezioni che mi evito a seguire, dovrà assolutamente fare i conti con questo tema energetico. Papà Francesco, anche ultimamente, ha parlato del tema demografico, ne parla spesso, e lo ha fatto l'ultima volta incontrando Confindustria e lo cito, ha detto è urgente sostenere nei fatti le famiglie e la natalità, nei fatti, sostenere nei fatti le famiglie e la natalità. Su questo dobbiamo lavorare per uscire il più presto possibile dall'inverno demografico nel quale vive l'Italia e anche altri paesi. È un brutto inverno demografico che va contro di noi e ci impedisce questa capacità di crescere. Il Papa ha parlato di capacità di crescere. E poi ha concluso, oggi fare i figli è una questione, io direi, patriottica, anche per portare avanti il paese. Parole di Papa Francesco